Un totale di tre giorni a disposizione per essere aggiornati su diversi aspetti legati alla sicurezza. Da venerdì a domenica, Gualdo Cattane è ospitato una particolare esercitazione di protezione civile ribattezzata Gualdus Cattaneorum 2023, coinvolti centinaia di tecnici umbi, inclusi geometri, ingegneri, architetti e geologi, sul posto per capire come gestire una situazione di emergenza sismica, a organizzare l'iniziativa ai collegi dei geometri delle province di Perugia e di Terni, insieme alla giunta Valentini, alla gruppo comunale di protezione civile Gualdo Cattaneo 2010 e all'associazione geometri volontari per la sicurezza e la protezione civile, appuntamento utile soprattutto per formare e tenere sempre pronto chi lavora nella pubblica amministrazione. Noi nei fabbricati entriamo quotidianamente, li vediamo crescere, li ristrutturiamo, li conosciamo, ogni professionista dell'area tecnica ha delle specifiche competenze, però tutte queste competenze le mettiamo al servizio dei cittadini andando a visitare i loro fabbricati e valutando se possono rimanere oppure devono lasciarli quando c'è un evento calamitoso. Consente un aggiornamento professionale, nuove normative sempre in cambiamento, situazioni anche del mercato, delle professioni e degli impegni sul fronte edilizio che cambiano e c'è bisogno quindi di un aggiornamento continuo. La regione c'è, i nostri tecnici sono qui anche per partecipare, anche la protezione civile, credo che sia un momento importante di riflessione. Nel corso dell'esercitazione i volontari hanno potuto mettere in pratica le proprie competenze con sovraluoghi edifici ipoteticamente lesionati, inoltre sono state sviluppate procedure generiche di vario tipo come il montaggio di tende o cucine da campo, l'utilizzo di idrovole e le operazioni di soccorso con unità cinofile.